Ciao ragazzi, 20 dicembre Perché non si apre? Ecco qua Abbiamo questo rossetto A22 Si chiama Mer E' un lipstick matte, che cos'è? E' un altro marrone Mac, ma vi andà a pigliarlo nel culo Lecchioni, deficienti, stronzoni E' uno 6 6 marroni Signori Ficcatevelo nel culo il marrone Con tutta quella roba che c'avete Cazzo, non potete mettere Un rossetto rosa Un fucsia Un qualche cosa, cazzo Che valga di più del marrone Ma porca puttana Ma siamo alle feste Ma metti qualche cosa di più brioso Porco cane So, ma andatevene a fare in culo Non vi compro più, cazzo Ficcatevelo nel culo i vostri prodotti Di merda Cazzo, pure a Natale Dovete fare incazzare le persone Non ve lo compro più La vostra merda dell'avvento Non ve la compro più E' molto più bello Quello della pupa Cazzo, e costa anche di meno Ma andatevene a fa' Un culo E con questo è tutto Ciao e alla prossima